direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi martedì 19 settembre il jackpot ha raggiunto la cifra di 35 milioni 176 mila 378 euro 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora via l'estrazione del concorso numero 112 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 46 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 55 il terzo numero estratto è il numero 38 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 73 adesso scopriamo il quinto numero capo le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 65 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 45 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ai cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 53 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 46 55 38 73 65 45 e il numero jolly è il numero 53 e ora passiamo al numero superstar 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 è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super analotto fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'uno le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 64 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 112 in ordine crescente 38 45 46 55 65 73 numero jolly 53 superstar 64 e l'estrazione di oggi martedì 19 settembre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 35 milioni 100 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 112 siete pronti a scoprire la vincita di questa sera? questa estrazione del super analotto assegna 281 mila 494 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 35 milioni 100 mila euro sarà stato centrato 6? questa sera al 6 di super analotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 36 milioni 100 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1 i 5 sono 5 e vincono 32 mila 789 euro ciascuno i 4 sono 446 e vincono 370 euro ciascuno i 3 sono 15 mila 452 e vincono 32 euro ciascuno i 2 sono 240 mila 58 e vincono 6 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate a vend 12.125 vincite immediate nel valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella l'unico 4 stella si aggiudica a 37 mila 4 euro i 3 stella sono 73 e vincono 3.240 euro ciascuno 100 euro vanno 932 stella 10 euro e 6.905 1 stella e 5 euro e 17.624 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi su per una lotto video appuntamento giovedì 21 settembre e giocheremo per un jackpot di 36 milioni 100 mila euro arrivederci a Grazie a tutti.